Signori, buonasera a tutti. Oggi giorno 21 febbraio 2023, che mancano esattamente tre giorni al mio trentunesimo compleanno. Però oggi è il compleanno di un altro mito, del mitico e irreprensibile Tiziano Ferro, che prima di iniziare a cantare gli auguri al grande tizio, prima di iniziare a fargli fare gli auguri da tutti i diversi personaggi interpretati da me, glieli interpreto io alla mia maniera. Non qui fuori dalla macchina, qui fuori sono solamente uscito un pochino per dare un po' di luce al video, visto che essendo sera e finché non finisce l'ora legale, è l'ora solare e qui devo fare tutto alla luce. E prima di iniziare, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to tizii, happy birthday to you. Tantissimi auguri ciccio, ti mando un bacione e un abbraccione, spero che passerai un gran 43esimo compleanno da urlo. 43 anni il nostro Tiziano. Bene, iniziamo a fargli fare gli auguri dalle diverse celebrità, a partire dal mitico portiere da Roma, Pietro Boer. Tantissimi auguri tizi, ti mando un bacione e un abbraccione e vieni a vedere le mie partite. Te passo un altro romano, Maurizio Mattioli, che è ancora più romano di me, nonostante non faccia il carciatore. Amori tizii! Che bello ragazzi, te. Mo' me fa invecchiare pure me, no, a me me fa entrare nell'ospizio, perché se Tiziano un signore di 43 anni e io che ce n'ho morti più di lui, qui va a finire che... vado a finire in qualche casetta di cura, no? E chissà se ci va a finire pure... No, lui è più piccino di me, Salvo Ficarra, vero Salvo? E pure a me mi fa sentire vecchio questo ragazzo, però è... Devo dire che lui è giovane dentro, è... Giusto Valentino? Giusto, giusto Salvo, giusto, giusto. Sentiamo cosa ne può pensare la nostra amica, da chi partiamo, da Gianna Lannini o da Pierpa Pretelli? No, no, partite da me, raga, partite da me. Tantissimi auguri tizi! Sei nell'anima! Tanti auguri tizi! Spero non mi portino in carcere, meno male che son vicino casa... Vai Pierpaolo! Tizi, tantissimi auguri! Sono proprio contento di essere imitato da Sima e di fare gli auguri a un mito come te, tizi. Giusto, Leonardo Cecchi? Abbiamo adesso un grande mito di Alex Enco... Certo, Leo, certo, scusami Pierpa, volevo dire Pierpa e tantissimi auguri Tiziano e ti mando un bacione e un abbraccione, grazie mille Simo che mi sta imitando, anche se non so se ti sta riuscendo molto, però l'importante è il pensiero. Giusto, Saul? Diamo la parola a Saul Nanni se mi viene bene. Tantissimi auguri tizi e grazie mille a te Simo che mi sta imitando, anche se non so se ti viene bene, ma l'importante è il mettersi in gioco. Questo è tutto, buona serata a tutti e buon divertimento.